Ma 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 lo sai chi c'è? È arrivata la piottina, è arrivata stamattina, l'ha portata alla DC. Ma 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 lo sai chi c'è? È arrivata la piottina, è arrivata stamattina, l'ha portata alla DC. PC, PC, PC non dice niente, PC, PC, PC non dice niente, PC, PC, PC non dice niente, PC, PC dice niente, PC. Ma 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 lo sai chi c'è? È arrivato anche Damiani, ha portato gli americani, ha comprato gli erpulette. Ma 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 lo sai chi c'è? È arrivato anche Damiani, ha portato gli americani, ha comprato gli erpulette. Dici, 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 non dice niente, dici, 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 non dice niente, dici, 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 dice niente, dici Ma mamma, lo sai chi c'è? È arrivato anche l'ama, c'è un posto che lui brama, il ministero vuole andare Ma mamma, lo sai chi c'è? È arrivato anche l'ama, c'è un posto che lui brama, il ministero vuole andare La Cis, la WI, la Cis non dice niente Ma mamma, lo sai chi c'è? Sono arrivati i petrolieri, sono arrivati coi portieri Sono arrivati coi portieri, ma mamma, lo sai chi c'è? Sono arrivati i finanzieri Andre Cato nei portieri, per favore della DC Pisaglia, Pisaglia, Pisaglia non dice niente Pisaglia, Pisaglia, Pisaglia non sa niente